Si sono finti normali clienti, parlavano in francese, alla titolare hanno gentilmente chiesto di poter prenotare e pagare subito un trattamento per la madre. Ma quando la donna, Franca D'Aros, ha estratto il portafoglio da un cassetto per dare loro il resto di una banconota da 200 euro, hanno estratto la pistola. La rapina martedì sera intorno alle 18.30 al centro estetico Sole Luna di Piazza Martire della Libertà a Susegana. Due persone, una coppia, un uomo e una donna, uno di colore forse indiano e l'altra sudamericana, mi hanno suonato per un appuntamento. Come sono entrati per l'appuntamento, volevano pagare in anticipo e alla fine con la scusa di 200 euro mi hanno fatto tirare fuori il portafoglio, mi hanno puntato la pistola e mi hanno fatto dare l'incasso. 800 euro il bottino, afferrato il quale i due si sono guadagnati la fuga, non prima di essersi assicurati che lo sguardo della donna non li seguisse. Mi hanno steso la tara, mi ha messo un piede sopra, mi ha fatto girare il viso dalla parte opposta e poi sono usciti. I carabinieri indagano sul colpo. La speranza è che le telecamere della vicina banca abbiano ripreso i rapinatori. Per la vittima un'angoscia profonda che si avverte nelle sue parole quando le si chiede cosa le rimarrà di questa drammatica esperienza. La paura. La paura.